Partiti Cavalli del Giubileo 2014 Invece per via interne Peng con vicino Prato Mariante Questa è la prima parte del gruppo Con De Meteor che ha rilevato completamente Verdetto finale e conduce All'interno di verdetto finale c'è Steven Kitten In giubba bianca con le maniche rosse Poi ancora Texidori in giubba rossa con il cap oro Che ha in scia voleva in giubba verde Poi ancora Peng in marrone all'interno Su Prato Mariante con le maniche cap blu scuri Poi ancora Porsen in bianco azzurro Su Cramulchi all'argo in giubba celeste A chiudere il gruppo Pattaglia in bianco rossa verde Questa è la posizione al compattamento della piegata La retta d'arrivo agli 800 metri Che vedono De Meteor in vantaggio Pedinato da Steven Kitten all'interno E all'esterno lo stesso verdetto finale Che si butta all'interno di Texidori Poi ancora Peng insieme allo stesso Texidori Prato Mariante, Voleva, Cramulchi, Pattaglia e Porsenna Steven Kitten che passa in vantaggio di dentro Su verdetto finale De Meteor in fase calante All'interno Prato Mariante su Peng Cramulchi all'argo di tutti Prova a recuperare anche Porsenna Steven Kitten che aumenta Su verdetto finale su Prato Mariante Su Peng, Porsenna, Pattaglia all'argo di tutti All'ultimo farlo Steven Kitten che è ancora davanti Su verdetto finale Pattaglia Poi ancora all'esterno lo stesso Cramulchi Steven Kitten da solo verso la meta Steven Kitten che domina il giubileo Mentre Pattaglia fa il secondo Vicini per il terzo Cramulchi E verdetto finale Ha dominato il giovane Ha dominato Steven Kitten Fabio Branca in sella Per un comodo e imperioso successo La trasferta vincente di Gianluca Editorino al training Per il signor Ramsey Ai colori